Serata benefica, grandi chef, una bellissima iniziativa che vede l'amministrazione protagonista. Una serata organizzata nella cornice meravigliosa di Piazza Mercato, che tra l'altro è l'unica piazza ottonale d'Italia. Una serata dedicata all'alta enogastronomia, con lo chef tristellato Chico Cerea, una leggenda, ma soprattutto una serata di beneficenza, a sostegno del progetto Una Casa per Tutti. La finalità è per raccogliere fondi per la Casa per Tutti, che stiamo ristrutturando per le famiglie che hanno un disagio abitativo. Non saranno appartamenti per cui uno viene e sta per sempre, sono per rispondere all'immediato perché hanno avuto degli sfratti, cose del genere, per cui c'è un periodo di tempo, mentre poi il gruppo della Caritas si occuperà di trovare un alloggio per queste persone in difficoltà. Giorgio Bartolucci, chef di Domodossola, tra i promotori di questa iniziativa per il secondo anno, partecipazione numerosa, serata direi di alto livello. Sì, come ho già detto è un sogno che avevo nel cassetto da tanti anni, che finalmente si realizza fare una cena nel salotto della città e devo dire grazie a tutti, a chi ha creduto in questa cosa con me, dagli chef, a tutta l'organizzazione, al sindaco, a Chico Cerea che si è dato subito disponibile per questa serata, quindi abbiamo quello che è veramente l'eccellenza della familiarità nella ristorazione italiana. Chico Cerea sicuramente è la stella di questa serata, cosa pensa di questa iniziativa e cosa propone questa sera? Grazie a voi per l'invito perché mi sono trovato in una piazza del mercato, si chiama Veteto, bellissima, inaspettata, non conoscevo a me Domodossola quindi è stata una bella occasione e ho conosciuto Giorgio, ne abbiamo parlato e noi aderiamo ogni tanto a queste belle serate di Ceriti e l'iniziativa mi sembrava lodevole quindi sono venuto molto volentieri.